E' una vicenda ingarbugliata quella dei rifiuti appagani. Ieri pomeriggio l'amministrazione commissariale ha incontrato i delegati della Will Trasporti per affrontare la spinosa situazione relativa alla sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro. Lo scontro tra i commissari straordinari di Palazzo San Carlo e il consorzio di Bacino Salerno 1 c'è e questo è un dato oggettivo. Sottutto la difficoltà nella rimozione dei rifiuti accumulati durante le quasi due settimane di stop da parte dei lavoratori consortili. L'opinione pubblica incalza, bussando continuamente ed in vario modo alle porte di chi gestisce la cosa pubblica appagani. Che però ribadiscono i vertici del consorzio di Bacino pecca di una notevole morosità. A fronte di un canone mensile di 380 mila euro da Palazzo San Carlo ne partono 250 mila. Abbiamo chiarito che a noi stanno a cuore due cose. I lavoratori da una parte, che chiaramente rispettiamo perché noi stessi siamo lavoratori e quindi sappiamo bene che i lavoratori hanno dei diritti che devono essere assolutamente... I rapporti con il consorzio? Un attimo. E poi abbiamo molto a cuore i cittadini. Perché chiaramente noi rappresentiamo loro e ogni volta che andiamo in un comune, pur non essendo nativi di quel comune, noi ci sentiamo dalla parte dei cittadini che rappresentiamo. La triade commissariale ci ha garantito per i dipendenti il pagamento dello stipendio del corrispettivo di aprile. Si è riservata una rimessa di circa 100 mila euro, che è un'altra rimessa di 150 mila circa, è stata mandata al consorzio di Bacino stamattina, che quest'ultimo se non provvederà al pagamento degli stipendi di aprile, provvederanno il comune autonomamente. Non possono fare? Sembrerebbe di sì per quello che mi hanno riferito. Io onestamente ho qualche perplessità, però va bene così.